29 agosto 2024, dove sono? Dove sono? Dove sono? Arrivato alla stazione centrale di Milano. Guardate che bella la stazione centrale. Dopo quasi tre settimane in Valcamonica, sono ritornato nella mia città ad ammirare il senso metropolitano. C'era un qualcosa che mi mancava. Eccola la bacheca di fronte a voi, se non ci credete. Tra poco sono il bottone verde, esco, arrivo dopo un percorso dalla Valcamonica. La Valtellina, treno assolutamente vuoto. Domani, domani, domani riparto per il mare. Ora vado a fare il tour in Italia per tre giorni, perché l'abbonamento Ligure appartiene al primo settembre. E oggi sono in girovago. In girovago, guardare il bottone che si schiaccia, comodissimo, per arrivare alla mia città. Bellissima, bellissima. Guardate che bella Milano. Domani parto per la Liguria. Vado a Recco, se è possibile. Così lo dico stasera. Poi, se sto bene, se le mie gambe permettono. Perché non a tutti spetta di fare questa vita tutti i giorni in movimento. Finché ce la faccio, Aldo, il girovago, continuo a viaggiare. Continuo a viaggiare. Domani parte della Liguria, Sestri Levante. Già prenotato da dormire. Ok, se ce la faccio. Speriamo di svegliarmi, di dormire stasera alla mia abitazione di Baggio. Domani si riparte. Bella la vita. Bella la vita. Bella.